direi che questo è quanto come è andato il corso dammi un po' un feedback ti è piaciuto? sì, il corso mi sono trovato molto bene mi è molto piaciuto mi è dispiaciuto che non ho partecipato a tutte le sessioni in cui tutte le domande con Vito ho avuto altri impegni altri problemi tra lavoro eccetera però comunque mi sono trovato tutto bene sì